Pulisci e corri. Questo è il motto della Keep Clean and Run, un ecotrail promosso da vari enti nazionali, tra cui il Ministero dell'Ambiente, che ha interessato per due giorni il territorio cadorino. Beh, Keep Clean and Run 2020, tra l'altro un sottotitolo, Keep Clean and Run for Peace. E quindi lo scopo è aumentato. Il primo scopo è correre, piegare le gambe, magari un po' la schiena, per raccogliere rifiuti, perché rifiuti abbandonati, ahimè, ce ne sono troppi. E questi rifiuti via via si concentrano nel mare, le famose isole di plastica negli oceani, che poi rappresentano solo il 5% dei rifiuti che arrivano al mare. Abbiamo aggiunto For Peace perché corro sui luoghi della Prima Guerra Mondiale, perché è un luogo pulito e in pace. Un luogo sporco rischia di essere in guerra e viceversa. La prima tappa in particolare è partita venerdì scorso da Cortina ed è terminata a Lorenzago. Lungo il percorso, il rifiutologo Roberto Cavallo e il triatleta Roberto Menicucci si sono fermati a raccogliere l'immondizia che incontravano, sensibilizzando le varie comunità sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Il trail continuerà fino ad arrivare a Trieste. Buona la partecipazione delle varie comunità coinvolte e tanti ancora i rifiuti raccolti. Qualcosa l'abbiamo trovata, devo dire, mi ha molto sorpreso negativamente la pista ciclabile che esce da Cortina d'Ampezzo, che è meravigliosa, attraversa dei paesaggi stupendi, tantissime mascherine, credo averne raccolte una trentina e ce ne erano di più, poi non potevo raccogliere tutto evidentemente, molti imballaggi come sempre, lattine, scatolette, molta plastica. Poi ho visto qui vicino a Domegge, i ragazzi hanno pulito una grande parte del loro parco, parco cittadino, vicino alla pista di atletica e hanno trovato degli pneumatici, un grosso bidone di acciaio datato e per quanto ci impegniamo davvero troviamo sempre troppo.